Hello there! It's Mrs. Spelling here in Fumbleland. Benvenuti al percorso sul quaderno nasone, nose book. Vi ricordate com'è nato? In classe abbiamo scritto nose con la S invece di note con la T. Volevamo scrivere notebook, quaderno, ma avendo messo la S è nato il quaderno nasone perché nose significa naso. Note è l'appunto e book è il libro, il libro degli appunti, notebook. Dunque le parole di nose book, le sue fumble words sono nose, naso, note, appunto e book, libro. Divertitevi! Vai!